Questa è la tessera del Registro Italiano Veicoli Storici per l'anno associativo 2017. La tessera di quest'anno possiede un codice di verifica QR Code. Per verificare la validità della tessera è necessario utilizzare un'applicazione per leggere il codice. Una volta inquadrato il QR Code sullo smartphone, verrà visualizzata la scheda relativa alla tessera e i veicoli attualmente iscritti a registro. Grazie per la visione!